Buonasera amici del settembre lindese dalla Brunori Sass Dopo questo inizio collino nazionale dedicheremo il concerto a Bruno Pizzul e al suo esordio che era siamo collegati dallo stadio di Pasadena per la partita fra Italia e Brasile arbitra l'ungherese Pull e la Brunori Sass vi saluta con un brano che si chiama e si intitola per la vostra gioia e il vostro diletto Nanà, grazie di buono Grazie 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 storia di sesso e la mia natura è perfetta della sua mano che andava troppo di tempo e potrei raccoltarvi ma che sei bella grazie facciamo questo vergognoso teatrino e lo faccio sempre se solo mi ricordassi se solo mi ricordassi se solo mi ricordassi se solo mi ricordassi perché voglio tornare alla canzone è secondaria nello spettacolo è la bellezza che voglio satisfat se solo mi ricordassi ah grazie se solo No, se solo mi ricordassi, ma la mia mazza di carta è troppo e più, è pochissimi assi. Perché la mia, ma non la devo scacciare, è molto spesso e la devo inventare. Perché la mia, è una vita normale, è molto spesso e la voglio cantare. La mia, è una vita normale, è molto spesso e la voglio cantare. La mia, è una vita normale, è molto spesso e la voglio cantare. La mia, è una vita normale, è molto spesso e la voglio cantare. Grazie. 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 Grazie.